Bella a tutti ragazzi, qui Golf E anche Stefan Kaos, stiamo iniziando la partita di Black Ops 2 come protagonista io Mamma mia signora Prendi, si naturalmente, che è quello che usa lui quando gioca su Ace Boss Speriamo di non fare figure di merda, ti prego fai che non faccia figure di merda Ma io devo usare il cecchino che avevo salventuato, io sarei quello Non voglio fare figure di merda Intanto lo fai Ma cosa stai facendo? Ma che so, gioco quel controller I job la fin Lasciamo stare quello che stai dicendo Adesso mi da il permesso Wolf e io mi creo una classe cecchino per favore A paura, sai Eh, eh, abbi la più spesa L'avevo usato anch'io Ma no, ma sei impossibile Wolf, dai, no Mi ha lasciato questi schifezzi Io l'ho portata così al mare sull'Xbox E tu sei ancora qua Ma perché non lo uso mai? Ma ho capito, non è una scusa E qua mettiamo il stress Ecco, troppo tardi Io odio quando Fod fa cose Eh, vabbè Ancora, su ride Ok, lascia Certo Allora, preparatemi Preparatemi a piangere Allora C'era lo schifo dei gameplay Bitch Ma stai camperando un po' No, non sto camperando Ma non lo devo controllare Ah, sì, intanto lo fa Ah, è vero che ci sono i punti Eh, sì Eh, ha qualche problema Il mio controllo Ah, cacchio Il controllo di Wolf Che è tornato col paese Oh, manno, la mia casa è andata Cosa? Perché ricarica? Cosa fa? La cacchia Ma che cacchia fa? Granata Come ti viene la granata? Dai, ti prego Non fai questo Oh, regà Sono andata con un controllo Bellissimo Ok, no Forse sei rimasto a posto Tu come sai non ce la fai Eh, non li faccio, però a voi Oh, no, ci prego, basta Guarda, no, poi mi fa pure scoprire Ma poi soprattutto è più bravo di te Ma che cacchia ti dice adesso? Tipo faccio uno scopo Ecco Oh No, quello lì lo mettiamo come finale Eh, si da sempre Guarda, lo c'è la granata No Invece da quello che pensano quelli che sono contro di te Facciamo un intervento di precisione Maggio rifornimento Oh, ahia, ahia No, no, no No, non riuscirò Guarda Ok, allora no Un due, un due, un due, un due, un due A dare i colpi si riasce e gli encontrò Guarda, guardate i Wolf come si crologiano nel mio fallimento Qua c'è un grande amico Mi sto ricordando James Bond adesso Ma poi mi piace anche te Ma poi mi piace anche te Ma poi ti sa che io dicevo No, ma perché ho anche mezzo class? Ti sa che io dicevo Dai adesso fa la feed No cacchio ma le granate le ha dato a fan cu Io non le uso mai le granate Io li avevo, non so Perché le avevo messe già Perché non volevo lasciarla muotta Ma che cacchio è questo qua? Uno forte È venuto su tutta la cosa Maestro prestigio Eh sì Stai scherziamo Ma maestro prestigio che livello sarebbe di prestigio? La fine Quando finisci Forse è quando finisci il decimo prestigio Credo Ma voi sta venendo la Mi sto stozzando Sta venendo un colpo Ma chi è questo piccio che ha disegnato questa cosa? Mamma mia Drei unzi quei pugni Mamma mia È la parodia del simbolo dei sass Ah scusate, sei tu? Sì Wolf, Ricky Bach, chi è? Pensavo fosse È perché questa è una maschera di un teosco Io faccio Mamma mia Proprio quelli che non si dedicano al simbolo? Eh sì Ma tu sarai lì per fare qualche simbolo Venuti a Repubblica di Panama Una delle più grandi repubbliche delle banane al mondo Ah Bravo Wolf Forse voi non lo sapete Ma praticamente Oltre ad usare i soldi normali S'utilizzo un sacco di cose Per esempio Dai tappi Al coletti indigretti Di grado militare alle banane Surprise Vieni fuori Tu Tu Vieni fuori Ma sei storto Che caccia Sei storto Posso piangere? No Ti prego posso? No Perché no? Perché no? Perché non è venuto dare il cecchino? Teoricamente è lo scacco di netto Quattro colpi dove abbiamo usciutato Visto che ha un proiettile più grande Del proiettile più grande del proietto Mi tradisco Guarda che è lo wab Sì lo so Dall'altra parte stanno arrivando Sto pensando una cosa Ma la dirò soltanto alla fine del video Perché porta sfiga dirlo Ma nooo Ok pensavo che stessi in seria Ma fa niente Vabbè quasi Ho il vetore assurdo perché è precisissimo Cioè non Non riesce a rinculare proprio Perché è sterile No dai questo qua non lo metta nel trailer Come battute Squallide Sei infame tu Mamma mia Dovante la testa Poi soprattutto facendo Altro colpo alla testa E' vero Ti ho bloccato Ah ok Ragga Comunque fa schicolante Quanti colpi hai sparato? Sì Soffri Mandof*** Chiudi ragazzi Direi di chiudere qua Bella a tutti da Wolf Io da Stefan Kaos Ciao Lasciate un like Commentate Iscrivetevi Ti ho superato uno a livello 12 Secondo ciao